buongiorno a tutti e benvenuti sulla mia pagina creativa idee di paola per realizzare il progetto che avete visto nell'anteprima questa volta utilizziamo un filato della film market marca mafil che si chiama taiga questo filo questo gomitolo pesa 100 grammi ed è costituito da un misto del 25 per cento alpaca 30 per cento lana peruviana e 45 per cento di acrilico per realizzare questo progetto il filo è lungo 150 metri quindi una buona resa dobbiamo utilizzare l'uncinetto numero 7 e qui che qui vedete allora per avviare questo progetto occorre avviare una catenella che sia multipla di cinque maglie allora per procedere vi lascio ora al tutorial di questo progetto dunque per realizzare questo progetto dobbiamo avviare una catenella che sia un multiplo di cinque maglie quindi io ho avviato nello specifico con uncinetto numero 7 con la mia mano una catenella di 55 maglie a questo punto lavoro 4 catenelle che sostituiscono la prima maglia alta doppia e 3 catenelle che sono metà dell'archetto che dovrei fare carico due volte e sull'ottava maglia 2 3 4 5 6 7 sull'ottava maglia lavoro una maglia alta doppia ok a questo punto a questo punto lavoro 3 catenelle salto 4 catenelle di base e nella quinta catenella lavoro una maglia bassa ok ancora 3 catenelle una maglia alta doppia carico salto 4 maglie di base nella quinta lavoro una maglia alta doppia 5 catenelle carico la maglia alta doppia e nella stessa maglia di base lavoro una maglia alta doppia ok 3 catenelle salto 4 punti di base nella quinta catenella lavoro una maglia bassa 1 2 3 carico due volte 1 2 3 4 e procedo per tutto il giro così 5 catenelle è una variazione diciamo del punto v con questa lana grossa mi piaceva fosse così traforata 1 2 3 4 e 1 e sulla quinta ok 2 3 carico due volte 2 3 4 nella quinta lavoro lavoro salto 3 4 nella quinta carico due volte 234 e nella quinta allora adesso poi vi faccio vedere il risultato del primo giro si è un lavoro molto veloce fatto poi con la lana così grossa rende parecchio può essere un'ottima idea per un regalo dell'ultimo minuto ovviamente anche questa lana se andate vedere si chiama taiga sul sul sito della della film market riuscite ad acquistarla c'è in tante nuance differenti e 34 e 15 1 2 3 4 e 5 quindi quando c'è l'archetto tra le due maglie alte doppie sempre 5 catenelle il resto 3 non è difficile da ricordare una cosa che lo schema serve sì e no 3 catenelle 3 4 e 5 ok ecco facciamo le 3 catenelle e chiudiamo con la maglia alta doppia in questo caso l'archetto non è completo ok perfetto volto al lavoro a questo punto qua devo partire con la maglia bassa quindi faccio una catenella per alzarmi maglia bassa il punto è sempre uguale 3 catenelle e sulla maglia bassa sottostante faccio la maglia alta doppia 2 3 4 5 altra maglia alta doppia e ritorno nella mia maglia di base 1 2 e 1 3 e mi inserisco nella catenella di mezzo ok 1 2 e 3 maglia alta doppia e mi metto e continuo così per tutto il giro ok il terzo giro sarà come il primo giro e il quarto giro giri pari praticamente saranno come il giro che sto facendo io adesso i giri dispari saranno come il primo giro non cambia niente ok praticamente quello che dovete ricordare è che dove c'è il punto basso dovete fare la v e fare le cinque catenelle direi che è molto semplice da realizzare ok ora io vi faccio vedere più o meno il risultato il risultato della lavorazione questo vedete per una sciarpa secondo me è fatta con una lana così grossa è molto bello ora io vado avanti un po e ci vediamo dopo per vedere come finirla bene sono arrivata alla fine dei miei due gomitoli di lana taiga e quindi sono arrivata alla lunghezza della sciarpa io ho deciso di fare un modello infiniti che sono quelle sciarpe per cui non c'è la non c'è la fine quindi sono circolari sono chiuse sono tipo delle ciambelle degli anelli sciarpa d'anello ho messo dei marker per fissare il posizionamento delle dei due lembi per far combaciare i lembi della sciarpa e adesso procedo alla chiusura allora come vedete io non ho nemmeno nemmeno tagliato il filo cioè procedo direttamente quindi infilo e faccio un punto bassissimo torcedo ancora così spero che la cosa si veda ok proseguo a maglia bassissima per tutta la lunghezza della sciarpa ovviamente cosa faccio non è che sto lì a vedere proprio che siano volendo potete dovrebbero essere due lembi sono sono uguali i punti sono gli stessi quindi non c'è non ci dovrebbero essere problemi per far combaciare i punti 55 erano alla partenza 55 devono essere all'arrivo non come vedete io prendo le costine non sto lì non passo dentro alla traforatura del ponte dentro l'archetto perché così siamo sicuri che tiene di più diciamo che questa io questa sciarpa l'ho lavorata in circa quattro ore quindi come vedete scorre molto è molto veloce da fare l'effetto sicuramente è piacevole e appunto può essere un buon idea per un regalo dell'ultimo minuto e anche queste nuove di grigio io trovo che siano molto molto belli ora io proseguo fino alla fine della riga e poi vi faccio vedere come infilare le codettine bene allora ho finito di unire i due lembi della mia sciarpa e adesso ripasso i codini allora passo dentro ok questo modo cercando anche di ripassare perché è molto traforato faccio anche un nodo della sarta così sono sicura che non si slabbra ok e ripasso dentro nei punti che ho fatto ok a questo punto prendo e taglio il filo in più la stessa cosa la faccio dall'altra parte prendo un ago da lana questo molto grosso ma come vedete con questo trucchetto di arrotolare strofinare si riesce a infilare praticamente tutti i fili mi passo faccio un nodo faccio il nodo che si fa diciamo per fissare il filo quando si cuce a mano e tanto poi posizionato dentro nelle cuciture è risvoltato non si vede mi dà più sicurezza vedete non si vede che è stato fatto anche un nodo di sicurezza ok perfetto questo punto taglio e ho finito il mio lavoro e questo è il risultato finale della mia cucitura praticamente si vede perché erogico è impossibile nasconderlo del tutto però direi che è minimizzato molto bene faccio vedere mettendo le mani a questo punto vi vi riepilogo che cosa utilizzato cioè ho utilizzato due 200 grammi quindi due gomitoli di lana taiga un uncinetto numero 7 un ago da lana grosso e le forbici questo è l'occorrente che vi serve per realizzare questa questa sciarpa infiniti se vi è piaciuto il mio tutorial iscrivetevi al canale per non perdere le pubblicazioni che verranno nei prossimi giorni e se vi piace se vi è piaciuto la mia pagina lasciate un like anche sulla mia pagina facebook grazie a tutte per l'attenzione e vi auguro buona giornata bene questo per realizzare questo progetto che avete visto in anteprima una sciarpa infiniti ho deciso di utilizzare un punto molto semplice che vedrete nel tutorial adatto a qualsiasi persona anche alle principianti la lavorazione di questa sciarpa è molto veloce e mi è piaciuto realizzarla come modello ad anello perché trovo che sia molto bella anche appoggiata su un maglione quindi direi che è veramente un modello adatto a tutti vi lascio i link del dell'occorrente nei commenti di questo video e vi lascio anche il link per l'acquisto eventuale della lana se siete interessati grazie a tutti e vi lascio al tutorial